Buongiorno a tutti ragazzi, buongiorno e benvenuti in questo nuovo video, anzi buongiorno a tutte le future mamme che purtroppo leggendo queste notizie sui social si sono imbattute anche nel mio video e che voglio subito anticipare di stare tranquilla. Andiamo con ordine, sulla mia pagina Instagram ma anche sul mio profilo TikTok che vi ricordo si chiamano entrambi peppo893 ho ricevuto una valanga di commenti e di domande di giovani e future mamme che mi chiedevano Peppe ma è vero che il vaccino anti-covid causa infertilità? Beh la risposta è ovviamente no, però no ovviamente in medicina e nel mondo scientifico un semplice no non serve a nulla ma bisogna argomentare le risposte e in questo video cercherò di farvi capire perché la notizia è una fake news e soprattutto il perché dovete stare tranquilli. Ovviamente seguirà a questo video anche un video dove parlo anche della vaccinazione in gravidanza e in allattamento secondo quelle che sono le società italiane di ginecologia e pediatria ma quello sarà un altro video. Prima di iniziare questo video ragazzi come sempre però io vi invito ad iscrivervi al mio canale mi raccomando attivando la campanella perché solo 3000 di voi hanno attivato la campanella e le notifiche quindi molto importante per non perdere i prossimi video. Lasciate qua sotto un commento se volete che io tratti ulteriori argomenti a tema medicina e ginecologia nel dettaglio e soprattutto seguitemi su tutti i canali social per avere un'interazione più diretta e più veloce con me. Ma non ci vediamo in chiacchiere via con la sigla! Prima di iniziare questo video ovviamente chi sono io? Io sono Giuseppe un medico specializzante in ginecologia e ostetricia e quindi come tutti ho un background culturale per poter affrontare determinati argomenti ed essendo la mia materia quotidiana la ginecologia e l'ostetricia va da sé che cerco di essere sempre pronto e informato su quelle che sono le nuove vicende nel mondo e nel panorama medico scientifico. Iniziamo con ordine però. Da dove deriva questa fake news in merito alla questione del fatto che il vaccino anti covid-19 possa causare infertilità? Va da sé che però c'è un piccolo disclaimer che voglio fare la medicina e soprattutto questa medicina è una medicina di pandemia cioè una medicina in rapida evoluzione dove le informazioni che noi abbiamo oggi sono vere e fra 5 minuti appena termino di fare questo video sono false. Perché la medicina è così è sempre stata così in rapida evoluzione e ancora di più nel 2021 dove le capacità ingegneristiche le capacità di formulare nuove diagnosi le capacità come va la scienza in generale sono triplicate quadruplicate rispetto a 100 anni fa va da sé che quindi tutto ciò che noi diciamo ora può essere sventito ma non parliamo dell'attualità di quello che noi conosciamo in questo momento. Va da sé che se ci saranno nuove informazioni in merito a ciò lo discuteremo magari in un altro video. Andiamo con ordine come dicevo prima che come al solito tendo a dilungarmi. All'inizio di dicembre 2020 quindi poco prima del rilascio al pubblico di tutti i vaccini anti covid-19 venne fuori un articolo sul sito Renovezio 21 dove si metteva in correlazione la gravidanza e l'infertilità con il vaccino anti covid-19. Dove in questo articolo c'era anche una petizione dove si chiedeva di fermare la fase 3 quindi l'ultima fase finale della sperimentazione del vaccino della Pfizer secondo cui in questo articolo diceva che c'era la probabilità elevata probabilità di creare e produrre una condizione di infertilità permanente nelle donne che venivano vaccinate. Petizione firmata da Wolfgang Wodgar che era un medico e un politico di un partito tedesco e da Michael Yeadon che fino al 2011 era il responsabile delle aree allergiche e delle patologie respiratorie della Pfizer quindi della casa produttrice del vaccino anti covid-19 almeno uno dei tanti vaccini che abbiamo adesso per nostra fortuna a disposizione. Tra le altre cose Yeadon comunque è stato molto conosciuto ed è conosciuto tuttora nella società scientifica soprattutto nel mondo anglosassine per la diffusione di alcune teorie pseudoscientifiche che poi vennero ampiamente smentite pertanto non la voce più attendibile a livello mondiale per quanto riguarda la parte scientifica. In questa fedizione si prendeva in considerazione il concetto secondo cui una porzione delle proteine spike aveva una somiglianza molto molto stretta con una proteina chiamata sincitina che come noi sappiamo noi medici è una particolare proteina che svolge un ruolo fondamentale nell'impianto della placenta all'interno dell'utero intorno alla nona decima settimana di gravidanza. Quindi una proteina sicuramente fondamentale per far sì che una gravidanza possa impiantarsi e quindi andare avanti e svilupparsi. E quindi in questa fedizione cosa si diceva? Bisognava accertarsi del fatto che questa proteina, questi anticorpi non potessero andare ad attaccare la sincitina invece che andare ad attaccare la proteina spike e di conseguenza attaccando la proteina sincitina impedire questo processo di attaccamento della placenta all'interno dell'utero e quindi consentire l'avanzamento della gravidanza. Quello che noi sappiamo sulla sincitina è che comunque è una proteina fondamentale come ho già accennato prima per l'impianto della placenta ma è una proteina che miliardi miliardi di anni fa derivava da un antichissimo retrovirus che poi è stata acquisita dal genoma umano e utilizzata a proprio vantaggio per permettere appunto il processo di attacchimento della placenta all'interno dell'utero. Infatti nel mondo del retrovirus ci sono delle proteine simili alla sincitina e queste proteine sono comunque importanti per il processo di ingresso del virus all'interno delle cellule. Un po' come fa la proteina spike del coronavirus per permettere che questa si leghi alla cellula e quindi possa entrare al suo interno che poi tra le altre cose è la proteina bersaglio dei vaccini. E quindi secondo questi due diciamo scienziati questa somiglianza farebbe sì che si producessero degli anticorpi che attaccassero per sbaglio questa sincitina. Ora chi ha un minimo di, non dico nemmeno di conoscenza medica ma di logica, sa che al mondo esistono milioni e milioni di proteine e come esistono milioni e milioni di anticorpi. I milioni e milioni di anticorpi devono essere specifici per poter attaccare una determinata proteina bersaglio. Ma da sé che se io ho una proteina che ha come sequenza ABC, ABC, ABC e poi ci metto una E finale, però l'anticorpo è talmente intelligente, è talmente in grado di essere specifico che pure lui avrà la sequenza ABC, ABC, ABC e per fare un esempio. Quindi sarà in grado di attaccarlo. È vero che ci sono situazioni estremamente borderline dove degli anticorpi possono andare a colpire delle proteine simili, ma non è questo il caso perché per quanto ci possa essere una similitudine tra queste due proteine, la sequenza è comunque diversa, non è così simile da poter trarre in inganno un sistema così intelligente come il nostro sistema immunitario. Pertanto già da sé e già di per sé verrebbe da smentire in modo molto semplice questo principio, quindi questa impossibilità, cioè state assolutamente tranquilli, è una situazione estremamente remota. Ora, il punto è questo, affermare queste due proteine simili, ma non molto simili, possono causare una risposta immunitaria contro qualcosa di simile ma non uguale, praticamente fa crollare tutti quelli che sono i concetti alla base della medicina, cioè basterebbe fare una proteina simile per essere protetti da 50 milioni di proteine molto simili. Capite bene anche voi che non ha una base scientifica, poi gli studi devono essere fatti, devono essere portati avanti e questo non ci piove perché ovviamente noi abbiamo pochi studi ancora sulle donne in gravidanza, sulle donne in allattamento, ma quei pochi studi che abbiamo e quelle poche donne arruolate che poi hanno avuto una gravidanza in questo periodo non ci fanno pensare che si sia creata una condizione di infertilità, motivo per cui dico non vi preoccupate perché è solo una scemenza a pensarci, ma continuiamo con il nostro discorso. Noi abbiamo detto, e ve l'ho detto forse ve lo dirò poi dopo, ne ho già parlato comunque sia su Instagram che su TikTok di come funziona il vaccino, gli ho detto che questo è un vaccino mRNA, cos'è l'mRNA? È una sequenza dove si impassano delle informazioni che vengono lette da una particolare regione del nostro corpo che ha il compito di produrre proteine con un messaggio, se ti arriva il messaggio tu leggi il codice, ok faccio questo tipo di proteina, e nulla di più, nulla di meno, questa proteina molto simile alla proteina Spike fa sì che il nostro sistema immunitario si attivi contro quella proteina, quando arriverà il vero virus lo va ad attaccare perché ha la stessa sequenza identica alla proteina che noi abbiamo creato, che ovviamente non contiene il virus, ma è una proteina simile, che serve per far svegliare e creare degli anticorpi di classe G e di classe M contro quella proteina, quando arriva il virus siamo già pronti, la sostanza è questa, nulla di più nulla di meno. Torna al nostro discorso dell'infertilità, se noi diciamo che gli anticorpi contro questa proteina che noi abbiamo fatto creare al nostro corpo per creare un'immunità, che è simile se non identica alla proteina Spike, vorrebbe significare e dire che tutte le persone che hanno preso il Covid-19 durante questo anno di pandemia siano infertili, cioè e il discorso è identico, se io ho una proteina simile e produco degli anticorpi contro quella proteina Pinco Pallino e io ho avuto il Covid-19, quindi ho avuto le proteine Spike nel mio corpo e ho prodotto gli anticorpi contro le proteine Spike, io devo essere infertile, cioè ragazzi questa è una deduzione logica, una deduzione semplicissima, penso che chiunque stia guardando questo video, anche se non ha delle competenze medico-scientifiche, è in grado di fare un 2 più 2 e in medicina fidatevi che i 2 più 2 sono pochissimi, ma in questo caso è un 2 più 2 semplice, quindi va da sé che è un discorso che non regge, perché se no avremmo dovuto dire che anche le persone che sono state infettate dal Covid-19 siano infertili, non siano in grado di andare in gravidanza, perché questi anticorpi hanno attaccato le proteine Sencitina 1. La verità è che dagli studi che noi oggi abbiamo non c'è assolutamente correlazione, tante donne che hanno avuto il Covid-19 sono poi andate in gravidanza in modo del tutto spontaneo, in modo del tutto naturale, senza alcuna problematica. E' ovvio, come ribadisco e come ho detto all'inizio di questo video, i dati che noi abbiamo in letteratura scientifica sono pochi, non sono dati di tantissimi anni, è una pandemia, è una medicina di pandemia, è una cosa emergenziale, quindi gli studi che sono fatti in medicina sono basati su determinati discorsi e sulle poche, ma comunque sostanziali, informazioni che noi abbiamo. Se le informazioni che noi oggi abbiamo su milioni di casi, perché ormai si parla di milioni di casi, ahimè, di persone infette da Covid-19, possiamo dire con relativa certezza che l'infezione da Covid-19 non crea infertilità, va da sé che anche il vaccino anti-Covid-19, che vi ricordo, serve a stimolare gli anticorpi contro una sequenza proteica simile, se non quasi identica alla proteina Spike, non dia infertilità. Ma adesso parliamo dell'ultima parte che secondo me è giusto trattare, perché io da medico specializzante in ginecologia, molto attratto dal tema dell'endocrinologia ginecologica e dell'infertilità, l'infertilità di coppia non è mai solo del singolo, che possa essere l'uomo, possa essere la donna, ma è appunto un'infertilità di coppia e quindi c'entra anche il maschietto. Cosa sappiamo sull'infertilità maschile dopo infezione da Covid-19 o dal vaccino anti-Covid-19? Beh, che andando a valutare il liquido spermatico di questi uomini, si è visto che sostanzialmente non ci sono alterazioni, ma il dubbio da dove viene. Nell'uomo sappiamo tutti che il virus della parotite può dare dei problemi di infertilità, ed è bene attenzionarlo a questo. Quindi ci sono delle rare, rarissime eccezioni dove si crea infertilità a causa di un virus. Ma non è questo il caso, perché dagli studi che si è visto il liquido spermatico degli uomini infetti da Covid-19 è tutto normale e naturale. Quindi è un liquido spermatico in grado di fecondare in modo corretto una cellula uova e di dare una normalissima gravidanza. È ovvio che, ribadisco per l'ultima volta, per tutte le persone dubbiose, la scienza è una scienza in evoluzione, le informazioni sono sempre in evoluzione e bisogna essere sempre sul pezzo, perché, come va da sé, tutto potrebbe cambiare, tutto potrebbe evolversi. Ma è ragionevole pensare che essendo il vaccino anti-Covid-19 banalissimo per certi aspetti, vaccino mRNA, e come tutti i vaccini mRNA, non c'è mai stato un problema di questo tipo. E va da sé che anche per i milioni di casi che ormai abbiamo studiato, abbiamo oggettivato, Covid-19 non causa problematiche di tipo infertile, sia nell'uomo che nella donna. è ragionevole pensare, stare tranquilli, che è consigliabile vaccinarsi, sia per l'uomo che per la donna, contro il Covid-19. Perché se è anche vero avere un ragionevole minimo, mininissimo, dubbio su questa concezione qua, perché ovviamente gli studi sono quello che sono, ovviamente ci vuole altro tempo per avere informazioni ancora più certe, nella medicina, quando si fa una scelta, imparate che tutto si mette su una bilancia, dove si mettono i pro e si mettono i contro. Ogni scelta che un medico fa, che uno scienziato fa, è fatto di pro e di contro. E in questo caso i pro superano di guallunga quello che può essere il contro. Quindi ragazzi, spero che questo video vi possa essere tornato utile, soprattutto a voi future mamme che volete intraprendere da qui a breve una gravidanza e siete dubbiose, farò meno il vaccino, di avervi chiarito, di poter stare ragionevolmente tranquille. Io vi ringrazio per aver visto questo video, a breve uscirà anche un video sul se farò meno il vaccino anti-Covid-19 in gravidanza o in allattamento, sempre parlando di quelle che sono le ultime informazioni che noi abbiamo delle nostre società scientifiche. Io vi invito ad iscrivervi al mio canale YouTube attivando la campanella, mi raccomando, per non perdere i prossimi video, perché solo pochi di voi hanno attivato la campanella. Seguirmi su tutti i social, Instagram e TikTok, molto molto importante, sto dando delle informazioni veramente molto molto dettagliate su questo mondo del vaccino, ma anche della vita di un giovane medico specializzato in ginecologia o gestitrice. Io vi ringrazio per essere arrivati fin qui e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazzi!